Buonasera a tutti, iniziamo chiaramente con l'appello. Cappetta Concetta, Forlenza Alfonso, Forlenza Onofrio, Panza Nicola, Margarella Luca. La seduta è valida, iniziamo questo Consiglio Comunale, ringrazio innanzitutto i consiglieri di miglioranza che dopo il mio appello dell'altra volta sono stati puntualissimi per iniziare questo Consiglio Comunale. Ne voglio approfittare anche per dare gli auguri a tutta la cittadinanza, sia a coloro che stanno assistendo qui adesso in aula, ma soprattutto a coloro che ci guardano da casa, un augurio del nuovo anno che possa rappresentare per tutti un anno di felicità, un anno di speranza, soprattutto un anno di pace vista le situazioni mondiali che ci stanno intorno. Quindi passo subito all'ordine del giorno e il primo punto sono le comunicazioni del sindaco, prego sindaco. Grazie, buonasera a tutti, io Presidente forse è opportuno che lo facciamo subito in termini di inversione dell'ordine del giorno, scoppiamento direi che abbiamo. Ah, secondo lo facciamo. Allora, chiaramente premetteva il Presidente l'augurio insomma di un ottimo prossimo anno, chiaramente mi riservo alla fine assieme all'intera amministrazione comunale, immagino anche i consiglieri di minoranza, di poter concentrarci un minimo su questo aspetto distensivo, insomma di auguri alla cittadinanza. Siamo oggi al cospetto di un nuovo consiglio comunale ma soprattutto di un consiglio abbastanza veloce, quindi abbiamo tentato di smaltire nel consiglio scorso tanti degli argomenti che avrebbero chiaramente sottratto tempo, oggi forse riusciremo ad essere anche veloci nella gestione. Rispetto alle comunicazioni mi andava velocissimamente di tradurre un po' di cose. Abbiamo adottato la delibera di giunta comunale per il riavvio del procedimento connesso all'adozione del piano urbanistico comunale. E' una ITER che intendiamo portare avanti in maniera celere, non prima di aver in ogni caso stabilito alcune date, tre incontri, quattro incontri zonali, ma nuovamente l'incontro con la cittadinanza. Ci siamo concentrati su una revisione, nostro avviso salutare, di quelle che erano state insomma le predisposizioni precedenti, di quelli che erano gli indirizzi della precedente amministrazione, chiaramente rispetto alla nostra visione, a ciò che intendiamo fare del paese, di alcune delle zone del paese, la cosa che però ci interessa è che non ci sia un percorso oscuro dal momento che noi intendiamo andare avanti velocemente e in piena armonia con la cittadinanza porteremo all'analisi e al cospetto dei cittadini quella che è la nostra idea sulla quale ci stiamo concentrati, essendo attentissime a eventuali ulteriori richieste, necessità che vengano espresse dalla cittadinanza stessa, da frazioni del paese. Secondo aspetto ugualmente fondamentale, quindi è un percorso che noi stabiliamo di poter chiudere entro giugno prossimo, se riuscissimo addirittura prima tanto meglio, ma intendiamo dirigerci in maniera spinta verso l'adozione del piano urbanistico comunale. Lo dico in Consiglio comunale in maniera tale che già da un punto di vista generale, tutto ciò che faremo anche in termini di comunicazione al velo dei manifesti, interessino i cittadini nella presa in carico di eventuali ulteriori progetti che ognuno può intendere a presentare prima dell'adozione del BUC stesso, quindi sulla base del piano urbanistico comunale precedente, del TRG precedente. Abbiamo anche inviato alla Corte dei Conti, questo un settimana scorso, una decina di giorni fa, la relazione con la quale abbiamo sottoposto all'attenzione della Corte dei Conti, la volontà fu riuscita dal piano di riequilibrio finanziario del Comune di Contro Sitero. Mi dilungo previstivamente senza voler diventare pesante, ma per aggiornare i cittadini sul quale aspetto. C'era rispetto al piano di riequilibrio finanziario di riferimento nella precedente mia capatina alla Corte dei Conti, avvenuta assieme al segretario comunale e al responsabile dell'area amministrativo contabile di allora, c'era un problema, cioè veniva praticamente individuato come piano di riequilibrio di riferimento il piano di riequilibrio 2016 e non alla revisione del 2018, che veniva considerata incompiuta, incompleta, non avendo visto praticamente un invio diretto alla Corte dei Conti per la presa in analisi di quella revisione del piano di riequilibrio del 2018. Andando in Corte dei Conti nuovamente per dire che i compiti a casa li avevamo svolti ed eravamo nella condizione di aver accantonato il milione 8,52 che il Comune di Contro Sitero e dede alla Regione Campania rispetto a opere pubbliche per le quali c'era stata una spesa inidonia di alcune delle somme, era nella condizione di poter procedere alla restituzione formale. Quindi diciamo l'accantonamento è stato completato. E' stato un gigantesco sforzo, noi davvero nell'anno 2021, 2022 ce la siamo vista nera sotto tutti i punti di vista perché ogni sforzo è stato concentrato sulla necessità di mettere a disposizione, oltre a quanto è già accantonato quel famoso milione 0,66 disponibile direttamente e totalmente sul piano di riequilibrio finanziario. Quindi non riuscendo a pescare alcun centesimo di euro per consentire che un bilancio già chiuso con il sudore della fronte fosse un po' più di respiro. Fa niente, speriamo che l'analisi della Corte dei Conti sia positiva. C'è un problema. Era stato trasferito con un parere negativo alla Corte dei Conti il piano di riequilibrio finanziario 2018, quindi quella famosa revisione, che era stato spedito invece dall'amministrazione comunale di allora al Ministero. Dal Ministero è stata trasferita alla Corte dei Conti con un parere negativo. Il fatto sta che questa trasmissione è stata ritenuta dalla Corte dei Conti un adempimento sostanziale, non più solo formale. Motivo per il quale adesso è nelle mani della Corte dei Conti non solo la valutazione sulla fuoriuscita, ma sul quale, visto che siamo il primo comune a farlo, debba essere il modo attraverso il quale garantiscono il superamento, la fuoriuscita, del piano di riequilibrio finanziario rispetto alla previsione 2018 che invece spostava enormemente in avanti questa scadenza. Il piano 2016 invece prevedeva la chiusura del piano di riequilibrio finanziario dal 31 12 2022, quindi diciamo a dopodomani. Siamo in attesa di loro determinazioni, il fatto sta che se il tutto andasse bene, è chiaro che in termini di sofferenza finanziaria del comune non abbiamo risolto un tubo, ma ci siamo tolti dal groppone una cosa gigantesca, cioè la possibilità di programmare con un po' più i calmi, chiaramente, negli anni successivi perché attualmente non è possibile prevedere più granché, ma nell'ottica dei 3-4 anni qualcosa di significativo anche in termini finalmente di personale da assumere per consentire che il vuoto infinito che trovate quando vi recate alcuni contorsi termini in ogni giorno possibile immaginabile sia un po' meno tale, quindi ci sia qualche risorsa in più a dare una mano per consentire che tutti gli addendimenti necessari vengano portati a compimento. Siamo al cospetto, al 31 12 2021 c'era la scadenza per la pubblicazione del bando per la ristrutturazione degli alloggi erbi località Borgo, vale a dire Ostello della gioventù casa per fede, uno dei progetti sui quali ci siamo concentrati istantaneamente appena avevamo vinto le elezioni, domani dovrebbe esserci l'avviso in gazzetta e quindi anche questa è andata. Così come entro il 31 12 2022 era da prevedere almeno l'avviso di pubblicazione del bando da parte di Acer per quanto concerne i 18 alloggi adiacenti alla cartolibreria, altra cosa monumentale che avevamo in ogni caso messo in programma e siamo riusciti ad ottenere e anche in questo caso abbiamo seguito fino alla fine un grazie anche alla struttura Acer, il tutto è stato compiuto quindi siamo nel pieno rispetto di quelle che erano le scadenze previste dal PNRR. Una cosa che dobbiamo imporci, noi faremo un'informativa completa ai cittadini, la faremo attraverso manifesti, dai primi giorni gennaio, diciamo il primo gennaio noi intendiamo metterci con passione, cuore a lavorare sul discorso della riorganizzazione dei servizi esterni, in particolare su quello ambientale, raccolta differenziata, tutto ciò che concerne la pulizia del paese, chiaramente abbiamo fatto il possibile in questo anno ma noi non ci riteniamo assolutamente soddisfatti, cioè quando un cittadino vede una nuova amministrazione, la cosa che vede è il traffico, è cambiata la situazione, sì no, la raccolta differenziata, è cambiato qualcosa, sì no, la pulizia del paese è cambiato qualcosa, sì no, noi su questo abbiamo messo la faccia, abbiamo detto che avremmo cambiato lo stato delle cose e quello che ci proponiamo di fare dai primi giorni del gennaio 2023 dopo aver chiaramente in maniera capillare messo le mani su ogni singolo aspetto della gestione interna perché c'era disperata necessità di arrivare a padroneggiare tutte le storture o le cose non positive che dovevamo padroneggiare. Rispetto a questo in particolare l'isola ecologica razionalizzeremo l'utilizzo e il conferimento degli ingombranti. Il Comune con Torsi Terme, cosa mai successa ma sono ormai quattro anni che spende somme allucinanti per questo discorso del servizio di ritiro ingombranti. In ogni paese del mondo gli ingombranti vengono conferiti all'isola ecologica ma pagati a peso, non può esserci una spesa che sfiora i 70 mila euro ulteriori che consentano a ciascuno di liberarsi di mezzo appartamento portando tutto all'isola ecologica così in un regiale, dobbiamo essere molto più intelligenti e torneremo a quanto si faceva in precedenza, cioè vale a dire un servizio telefonico di prenotazione in maniera tale che nei giorni indicati la persona in maniera controllata può andare all'isola ecologica a verificare cosa è possibile lasciare e cosa no. E dai primi giorni del 2023 sarà nuovamente attiva dopo un'assenza lunghissima. la videosorveglianza in maniera tale da consentire che non ci sia più quell'abitudine disgustosa di lasciare i regalini anche quando l'isola ecologica è chiusa lì davanti e andare via. La collaborazione da parte di tutti, vi prego, è assolutamente necessario che queste cose più che in termini di amministrazione comunale vengano percepite come prioritarie da ognuno dei cittadini. Quindi vi prego con tutto il cuore collaboriamo il più possibile in questo. È possibile migliorare i servizi solo se ci sforziamo tutti assieme. Quindi la preghiera è davvero questa e recolta a tutti. Comunità energetica. Abbiamo fatto un primo incontro, dobbiamo compiere adesso il passo decisivo. Ci saranno altri incontri, un paio di incontri almeno, a cavallo tra il mese di gennaio e il mese di febbraio. Dopodiché vogliamo procedere alla costituzione della comunità energetica. Lo abbiamo descritto, è un servizio per noi indispensabile, è una cosa sulla quale avevamo puntato e una cosa che consente anche al Comune di avere entrate aggiuntive, oltre che ai cittadini, qualcosa di significativo in termini di risparmio, dobbiamo assolutamente farlo. Dobbiamo farlo con una vastissima partecipazione. Dal momento che la partecipazione c'è e ci sarà solo nel momento in cui il cittadino comprende qual è in maniera specifica il sistema alla base di questo funzionamento, dobbiamo necessariamente prevedere nuovi incontri, Raffaele, e consentire che questo percorso possa prendere il via in maniera definitiva. Penultima, terz'ultima novità importante, tra domani e dopodomani dovremo finalmente, dico, riuscire Christian a costituire la nuova azienda consortiva. Quindi quello che era il piano di zona verrà finalmente, voglio dire, soppiantato da questa nuova realtà, da questa nuova azienda consortile. Chiaramente dobbiamo mettercela tutta, l'ho detto al sindaco di Eppoli, al sindaco di Campagna, di Altavilla, di Oliveto, quindi diciamo tra noi sindaci e amministrazioni comunali ci siamo visti per dire che c'è bisogno di cambiare passo. Il piano di zona di Eppoli, anche a causa di una penuria enorme in termini personale dal punto di vista concreto, non è riuscito più a garantire la funzionalità dei servizi sociali. Dobbiamo necessariamente anche su questo cambiare marcia, innovare un po', abbiamo fatto delle richieste davvero innovative, le avevamo già presentate in campagna elettorale, le abbiamo sostanziate in termini di richiesta, sulla nuova programmazione dovremo consentire che le cose cambino. Tenete presente che ci sono programmazioni arretrate, mai partite, per il momento andranno avanti quelle, pian piano tenteremo, tre anni, tenteremo chiaramente di adeguare anche a questo i nuovi progetti. Mensa, scuola materna, dal 9 gennaio sarà possibile usufruire del servizio Mensa, lo dico chiaramente alle mamme che ci sollecitavano questo aspetto, avevamo la necessità di rientrare anche dal punto di vista economico e di vedere anche quale fosse l'evoluzione pandemica, c'era chiaramente un superamento della stessa, ma lo scoglio del 3 dicembre è stato generalmente quello che ci ha fatto capire se le cose potevano cominciare o bisognava ritirare la speranza di ritornare alla normalità anche in questi termini. Invece dal 9 gennaio il servizio Mensa partirà e da questo punto di vista c'è stato un impegno infinito degli uffici di Christian, di Veronica, dell'assessore Mastroia e dell'assessore Pignata per consentire che anche sui servizi ludoteca ci fosse un'integrazione che almeno inizialmente consentirà di aprire la ludoteca a prescindere dalla gara unica espletata dal piano di zona di Eppoli. Immediatamente dopo, speriamo siano veloci, questo segmento verrà messo a disposizione per ampliare il tempo scuola, cioè per consentire che oltre che la mattina il servizio possa essere garantito anche di pomeriggio. C'è già in ogni caso un impegno per un'estate che vedrà sin dal mese di giugno il Comune nella condizione di mettere a disposizione delle famiglie con piccoli servizi di intrattenimento idonei e quindi speriamo di esserci mossi come tentiamo di fare da parecchio tempo in anticipo rispetto a quella che è la programmazione anche estiva. Infine, bando loculi cimiteriali, sono tantissimi cittadini che nel corso dei mesi precedenti hanno sostanziato l'interesse all'acquisizione di loculi e pubblico il bando e quindi c'è la possibilità di adesione, già c'è un numero enorme di partecipazione, di espressione, di volontà da acquisto, c'è ancora la possibilità di esprimere questa volontà, quindi siamo in attesa del vostro interesse per consentire una rapidissima realizzazione di stessi. Io ho finito Presidente, grazie. Grazie Sindaco. Passiamo al secondo punto. Siamo in un periodo in cui normalmente facciamo bilanci anche di vita, bilanci ciascuno di noi e quale miglior occasione per fare un bilancio e fare un riconoscimento al segretario comunale dottor Aniello D'Angelo per la grande attività e la grande professionalità che ha profuso per la nostra comunità e inoltre un riconoscimento per Gianmarco Barletta, questo giovanissimo del nostro paese di cui siamo tutti orgogliosi e che ha portato il nostro paese a livelli mondiali, quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente grande e soprattutto per la sua giovane età, per cui speriamo che faremo altri successivi, altri riconoscimenti. Su questo punto però volevo chiedere la cortesia di procedere immediatamente con il riconoscimento al segretario comunale dottor D'Angelo perché per non farlo stare per tutto il consiglio comunale ne ha visti già tanti, penso il segretario per cui vi esimiamo da questo sforzo di questa sera e invece volevo chiedere, ma già ne abbiamo parlato anche con i consiglieri di minoranza, di fare riconoscimento invece a Gianmarco alla fine del consiglio per volontà specifica anche di Gianmarco perché vorrebbero poi dopo festeggiare insieme a noi e quindi loro possono permettersi di stare durante questo consiglio comunale mentre per il dottor D'Angelo invece procediamo immediatamente se non ci sono problematiche quindi possiamo procedere in questo modo. Sì, non ho volontà di Gianmarco, ovviamente non è una questione, noi abbiamo un problema di tempizia e dovremmo assentarci prima. Ma cercheremo di fare a quanto prima. Perché adesso Gianmarco e poi... Va bene, va bene. Potremmo poter votare, dovremmo sdoppiare perché è un unico punto d'opera del giorno. Lo sdoppiamento non è... C'è un punto che è previsto da regolamento del sdoppiamento, quindi alla fine è come se il punto venisse saurito adesso, poi alla fine si fa... Poi dopo facciamo solo... Va bene, allora, Sindaco, prego. Sì, allora... Vabbè, con piacere immagino davvero a nome dell'intero Consiglio Comunale perché è stato questo il modo in cui abbiamo impostato il riconoscimento attuale, salutare così come si deve, ci tenevamo un po' tutti, tutta la maggioranza, immagino sicuramente tutta la minoranza, a salutare il segretario Aniello D'Angelo nel migliore dei modi, lo premetteva il Presidente, è stato un punto di riferimento per oltre un decennio, ha consentito che un po' tutti gli atti dedicati per i contorsi termi potessero essere impostati nella maniera giusta, è stato un supporto continuo, riconosciuto, apprezzato ed è il motivo per il quale, più che il ciao affettuoso, il sentirci ogni tanto per un consiglio, per un confronto, per, voglio dire, continuare quello che è un rapporto di stima, di apprezzamento che lega lui a noi, a ciascuno di noi, in ogni caso, di poterlo fare con un atto che per amore di Dio può essere simbolico, per noi importante e sostanziale, quindi salutare con una targa ricordo il segretario Aniello D'Angelo in maniera tale da poter consentire che possa avere un ricordo gradevole di contorsi termi anche dal punto di vista fisico e quindi forse è più opportuno che ci alziamo tutti e magari ci disponiamo davanti, davanti quindi nella parte, se siete d'accordo, non ti stanno i bandi e magari procediamo assieme, tutti assieme alla consegna adesso è arrivato il vostro amore e allora dicevo al segretario comunale, dottor Aniello D'Angelo, per aver supportato nelle scelte per oltre un decennio il comune di contorsi termi garantendo generosa disponibilità, meticolosità di lavoro e grande competenza segretario, grazie grazie a voi grazie a voi, immagino a nome di tutti, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa è il momento l'invenziamento al segretario penso che sia dovuto e non d'obbligo ma sentito perché veramente ha dato tanto al comune spero che non me ne voglia e non si senta privato del protagonismo se, visto che aveva fatto cenno pure prima al piano dell'equilibrio nel ringraziare il segretario volevo ringraziare anche tutto lo staff che ha partecipato con lui a portarci a poter parlare di chiusura al piano dell'equilibrio con lui c'è stato il ragioniere giovine, il ragioniere Antone Petrotta, il ragioniere Mazzeo e Lino Cristoparo che è ancora presente qui con noi quindi penso un ringraziamento da fatto a tutto questo staff che ha permesso al comune di contorsi termi non faremo quando usciamo, non lo siamo fatto per questo sì, sarà formale, magari sarà fatta una cosa più formale quando avremo la delibera della corte dei conti però visto che ho un momento un attimino sentito penso mi andava di ricordare anche queste persone che sono state penso di un valido e eccellente supporto per il segretario grazie ancora al segretario io non posso, non esi e si permita fare i complimenti al segretario per quello che ha rappresentato per la comunità di contorsi nei cinque anni precedenti è stato sicuramente un garante della legalità è stato a disposizione di tutti e quindi davvero rimarrà nei nostri guerri per sempre ha dato 11 anni della propria vita a contorsi in modo esemplare quindi a nome di tutti quanti grazie segretario per tutto quello che avete dato a tutti quanti noi ok, se c'è qualche nuovo intervento segretario, immagino che siamo, appunto, lascio a voi la chiusura è arrivato anche il mio momento, quindi della tarica che abbiamo consegnato più volte i dipendenti che andavano in pensione è un attestato di affetto perché secondo me molto è dovuto all'affetto mi reciproco affetto che avete forse nei confronti e chi io nei vostri confronti come ho nei confronti della cittadinanza poi l'ho detto sempre, l'ho detto a Lì io sono venuto sempre qua a fare il dovere e basta senza avere nessun tipo di altro siamo venivamo qua, siamo venuti qua per lo stipendio ma per fare il proprio dovere questo è un attestato quindi di affetto e diciamo di stima che va a cancellare pure qualche amarezza degli ultimi tempi è superata del tutto grazie di nuovo mi fa piacere la cornice la metterò anche alla delibera della corte dei conti che dichiara il vostro la vostra fuoriuscita dal piano di riequilibrio quella me la appendo sicuramente vicino a questa nello studio di casa grazie ancora, buon lavoro e buon anno a tutti grazie grazie ci riaccomodiamo per continuare ok allora dopo a questo punto io ho avuto la propina noi dobbiamo approfittare e fare le comprensazioni e gli auguri a Gianmarco però è l'impegno preso anche con questa manifestazione di stasera speravamo di non si essere semplice così da poter così da poter andare più avanti con tutti i lavori del Consiglio però purtroppo siamo già in orario anticipato quindi ci siamo confrontati anche io ho consigliato di rischio per quanto riguarda gli argomenti di bilancio sono il presto che variazioni che non vanno ad imparcare sul bilancio ma in grado di uscire abbastanza abbastanza semplice quindi per questo motivo ce l'onteniamo rinnoviamo gli auguri a Gianmarco veramente le congratulazioni per tutti i futuri successi che potrà avere e approfittiamo anche per per quanto mi riguarda la prima volta per salutare la nuova segretaria comunale e farvi un bocca al lupo l'esperienza in questo comune grazie ok grazie consigliere grazie grazie passiamo al mi fa male posso dire penso che l'espressione penso che un consiglio comunale sia la massima espressione di democrazia e di partecipazione della popolazione alla vita di un paese per cui va bene passiamo al terzo punto all'ordine del giorno comunicazione del sindaco in ordine ai contributi concessi al comune di Contursi Terme prego la parola al sindaco si se mi passi gentilmente il punto andiamo velocissimi perché davvero a questo punto di vista si tratta di comunicazioni di rito in ordine ai contributi concessi in questo caso parliamo di tutto quanto concerne il PNRR sull'azione PA digitale quindi visto il decreto protocollo 23-2022 PNRR del 1-4-2022 di approvazione dell'avviso per la presentazione di proposte a valere sul piano nazionale di prese e resilienza missione 1 componente 1 investimento 1-4 servizi e cittadinanza digitale misura 1-4-3 pago PA comunico che il comune di Contursi Terme ha risultato iscritto nella sezione domande finanziate al numero 539 per un importo pari a 19.205 ecco qua per un importo pari a 30.350 euro allo stesso modo la comunicazione è relativa sempre alla missione 1 componente 1 investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale alla misura 1-4-3 adozione AP io e vede il comune di Contursi Terme destinatario di un importo pari a 11.907 euro terza comunicazione la misura ecco qui l'avviso il 1-4-4 estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale quindi SPID e CIE comuni aprile 2022 con il quale sono state finanziate domande per un importo complessivo di 25.592 euro vedono il comune di Contursi Terme finanziato per un importo pari a 14.000 euro ancora quarta comunicazione misura 1-4-1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici 79.922 euro per quanto concerne invece la possibilità a parte nostra di ricavare un portale assolutamente completo anche della sezione turistica e davvero insomma abbastanza detarimente quello attualmente in dotazione all'ente e soprattutto attraverso questo ci poniamo il problema di integrarlo con i nuovi strumenti digitali rispetto a questo riusciremo a ricavare un po' di risorse grazie a lui e Dio anche per coloro i quali dovranno garantire un aggiornamento un pochino delle notizie un'impostazione un po' più attenta delle diverse sezioni che compongono il portale stesso io ho finito Presidente grazie grazie c'è qualche intervento? no? allora passiamo alla no passiamo quindi all'ordine del giorno successivo lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente come l'altra volta è inutile chiaramente dire tutti i verbali per cui chiedo che diciamo così approviamo i verbali le deliberazioni numero 41 42 43 44 45 46 47 48 e 49 approvati dal presente consesso nella seduta del 13 dicembre quindi ci sono passiamo direttamente dall'approvazione chi vota a favore votiamo subito dopo per la immediata esecutività quindi chi vota a favore sempre 8 il quinto punto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio esenzio dell'articolo 194 comma 1 lettera del decreto legislativo 267 del 2000 relaziona il consigliere Rizzo sì grazie presidente io volevo fare chiaramente gli auguri di buon fine 2022 e auguri di un migliore 2023 a tutta la cittadinanza e abbiamo attraversato un anno abbastanza difficile abbiamo preso chiaramente delle decisioni necessarie ma complicate per per quello che chiediamo ai cittadini di Contursi c'è bisogno di chiaramente di fare questi sacrifici ma garantiamo che con il prossimo anno cerchiamo di come dire di avere un nuovo piglio cercando di migliorare le condizioni dei servizi e ridurre i costi dando una tranquillità maggiore a tutta la cittadinanza venendo appunto all'ordine del giorno stiamo discutendo e proponendo il consiglio il riconoscimento dei debiti fuori bilancio così come derivanti dalle relazioni del responsabile del servizio amministrativo contabile a cui vorrei attribuire insieme a avere supporto dell'ufficio un grande applauso per l'istancabile lavoro svolto nel 2022 e in queste condizioni con l'ospicio che il 2023 sia molto più soddisfacente in termini di numeri e di possibilità ritornando a noi si tratta di numero 5 debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del Tuel e molto velocemente cerco di elencarvi gli stessi come enunciato nella proposta di deliberazione agli atti allora alla lettera A abbiamo il decreto incentivo numero 1706 2011 a favore della Gesco Ambiente una vicenda che tra origine dal mancato pagamento di alcune fatture per il conferimento di rifiuti soldi urbani e diciamo c'è stata una liquidazione parziale utilizzando i fondi di cui al DL 35 2013 e successivamente per effetto di successivi decredi ingiuntivi è arrivato anche un pignoramento della somma di 5.839 50 euro che sarebbe la montagna del credito per recettato più l'aumento del 50% si prevede di riconoscere appunto il debito fuori bilanci della somma di 3.893 euro a favore dell'Agesco Ambiente successivamente abbiamo il decreto ingiuntivo numero 206 2021 e un altro di percento di rinnovazione di pagamento della somma 942 euro a favore della ditta Medica Sud SRL civile alla lettera C liquidazione CTO riferimento processo civile 1930 2017 della somma di 998 95 euro al creditore dottoressa Patrizia Clemente per le spese e competenze di esecuzione 45 euro per l'imposto perfettario 15% 13,80 per cassa successivamente alla lettera D c'è la sentenza numero 266 del 2020 del tribunale civile di Salerno sezione terza civile successivo atto di transazione liquidazione a favore di Adangelo Aldo per la somma di 3500 euro tratta di un mancato pagamento dei convenzi professionali maturati per l'attività giudiziale a seguito di opposizione da parte del comune di Contursi la lettera E tratta invece della sentenza numero 23 del 2020 del pagamento quindi della somma di 349 euro per la 37 oltre interesse a favore del signor Pagnotto Augusto e 642 per la 97 per spese legali e tratta il mancato di pagamento degli interessi per ritardo nei compensi relativi ai lavori di sistemazione della strada comunale di vedo citra Tempa del Corvo alla lettera F c'è la sentenza 863 2012 è un atto di progetto di pagamento della somma di 1853 con un ulteriore atto di precetto a favore di Guidaida di Euro 3085 la cui vicenda riguarda un atto di citazione della signora Guidaida verso il comune per risarcimento di danni subiti in conseguenza di un sinistro subito in data 18 6 2010 considerando quindi la natura dei debiti provenienti da sentenze esecutive transazioni e opinionamenti essendo il debito certo ed eseguibile si propone riconoscimento fuori bilancio di quell'oggetto con impotazione della spesa sul capitolo 820 del bilancio di previsione 2022 se mi consentite visto che insomma siamo da soli vado direttamente alla proposta di delibera che dice di riportare ed approvare i richiami e le premesse dell'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo di prendere atto delle relazioni istrutture prese da responsabile del servizio amministrativo contabile e dei pareri favorevoli del revisore dei conti citati in premessa è che allegati al presente atto deliberativo ne formano parte integrante e sostanziale dando atto che la somma concernente al debito fuori bilancio è stata stanziata in parte sul capitolo 820 bilancio 2022 e in parte sul capitolo 810 bilancio 2022 di riconoscere essenzione dell'articolo 194,1 letterale del decreto legislativo 267 2000 quindi il Tuel i seguenti debiti fuori bilancio che già vi ho detto prima quindi Gesco Ambiente Medica Sud Patrizia Clemente qua c'è un refuso alla Cisola delibera c'è un a favore in più successivamente liquidazione a favore di D'Angelo Aldo Appagnotto Augusto e Guida Ida di incaricare responsabile del servizio amministrativo contabile affinché procede all'adozione di atti conseguenziali imputando la relativa spesa necessaria parte sul capitolo 820 e in parte sul capitolo 810 come indicato nelle allegate relazioni del bilancio di previsione 2022 che presenta la relativa copertura minanziare dall'incarico responsabile del servizio amministrativo contabile per la trasmissione del presente del liberato alla procura regionale della Corte dei Conti della Campania corredata da tutti gli altri documenti necessari e dichiarare infine con separate votazioni che poi il medesimo esito della votazione principale è la presente deliberazione immediatamente esecutiva nel senso dell'articolo 134 del TUE grazie grazie posso? sì allora velocissimamente su questo punto anche perché è quello che poi introduce ai due punti velocissimi che sbrigeremo rispetto alla ratifica delle variazioni del bilancio questi sono alcuni dei riconoscimenti debiti fuori del bilancio che eravamo insomma costretti a portare il Consiglio Comunale entro fine 2022 una quantità una tonnellata forse detto ironicamente chiaramente forse è quello che dovremo fare successivamente rispetto a ciò che ancora grava in termini di mancato riconoscimento da parte del Comune di Contursi Terme rispetto ad altre situazioni incresciose di questo tipo allora mi dispiace che non c'è la minoranza perché quindi è meglio forse tacere per la puntata successiva però dal punto di vista economico quando sento qualche insomma soddisfazione eccessiva che deve esserci capiamoci sempre quando ci sono buone notizie per il Comune di Contursi Terme perché siamo tutti cittadini di questo Comune felicissimo di farlo c'è però la necessità di essere consapevoli di quella che è la situazione economica attuale noi ogni giorno e gli uffici ogni giorno ricostruiscono questioni sulle quali la normalità non abita non abita le stanze del Comune di Contursi Terme in determinati aspetti e su questo gradirei che informare alla cittadinanza che ad inizio 2023 gli uffici si dedicheranno perché adesso erano superobberati anche a chiudere tutta l'azione che noi abbiamo fatto di revisione capillare delle cose che non andavano rispetto a tributi rispetto a presunti danni erariali rispetto a spese appunto non pagate non retribuite nella maniera più idonea relazionando anche alla Corte dei Conti questo gradivo e avrei gradito dirlo in presenza dell'intera minoranza lo dico oggi lo ripeterò quando saranno presenti anche loro però è importante per il Comune rendere chiare cristallina ogni singola questione di carattere economico-finanziario perché è giusto che noi ce la vediamo nera ed è quello che sapevamo di dover fare nel momento in cui abbiamo scelto di amministrare il Comune di Contursi Terme ma da questo punto di vista è chiaro anche che i cittadini devono rendersi conto di quale sia la situazione che il Comune si trova ad affrontare quotidianamente grazie Presidente grazie Sindaco allora secondo ci sono altri interventi passiamo alla prego Sessore Mastroia semplicemente per dire questo io fermo la stanza per la legittimità di ogni azione da parte dei singoli consiglieri qua sia sovrani chi viene qua sopra si comporta come meglio credere nel rispetto degli altri nel rispetto della regna però lamentarsi rispetto a la carenza di rispetto delle regole per mettere i consiglieri nella possibilità di partecipare degnamente ai consiglieri comunali e poi ci si lamentava tutti si scrive anche al Presidente della Repubblica rispetto a queste regole lamentandosi di cose che non sono nascendo niente ma poi c'è la possibilità di partecipare rispetto anche a altre gre giudifiche sarebbe stato il caso per rispetto agli ultimi che fossero approvati anche da loro rispetto a te di fare il bilancio e per lo scudo ci si alzano legittimo perché non ci si lamentasse perché non si è messo nella possibilità di partecipare al Consiglio 1 perché altrimenti si viene in giro a noi la cittadinanza è loro stesse grazie questa è stata un'ottima cosa che immagino che era quella che si era risparmiato il Presidente cioè però capiamo e rendiamo ridotto ci sono determinate rilievi posti all'attenzione della Prefettura di Salerno in ordine a convocazioni del Consiglio Comunale che noi abbiamo in ogni caso garantito con largo e varghissimo anticipo 4 giorni a disposizione per pochissimi argomenti che hanno visto giustamente qualcuno dire ma io in questo modo non riesco ad organizzarmi con gli uffici e non riesco a partecipare da questo punto di vista almeno questo punto all'ordine del giorno e lo dico appunto con ancora maggiore forza era giusto che lo votassero anche loro perché si tratta di riconoscimento dei piccoli bilanci appartenenti a vecchie consigliature e non certamente a questa attuale grazie grazie è esattamente questo che volevo dire perché dinanzi a impegni così importanti e a un obbligo perché a quel punto si ognuno si può comportare come vuole ma io penso che sia un obbligo per chi è stato eletto in un Consiglio Comunale partecipare al Consiglio Comunale non a una festa comunque ripeto allora passiamo alla votazione votiamo la votazione anche per loro votiamo chi vota al favore votiamo per la immediata esecutività ok minuto anche l'ordine del giorno numero 5 passiamo all'ordine del giorno numero 6 ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del periodo legislativo 19 agosto 2016 numero 175 relazione sempre il nostro caro Rizzo grazie di nuovo Presidente l'ordine del giorno numero 6 riguarda l'annuale ricognizione delle società partecipate come ben diceva dell'articolo 20 1 decreti risalivo 175 del 2016 vale a dire il testo unico per le società partecipate mediante l'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette di questi responsabili del servizio come sempre adottato una relazione ha avuto cura di inviare la stessa alla sezione regionale di controllo della corte dei conti nella quale sono eleccate le società con le quali l'ente accuote partecipativo al 31 12 2021 le società indicate della relazione sono molto brevemente l'asis staterentale rete impianti la cui quota di partecipazione dell'1 8 per cento la società sviluppo seretanagro patto territoriale la cui quota è del 4 35 per cento asment consortile per lo 0 14 per cento la società consortile sviluppo alto e medio sede per il 5 per cento asment consortile per lo 0 0 8 per cento e plurianco scpa società consortile per azioni con una partecipazione indiretta del 20 per cento per il tramite dell'asis e cgis spa sempre servizio idrico con una partecipazione indiretta del 10 per cento sempre per il tramite dell'asis intenzione praticamente dell'amministrazione è quella di mantenere le partecipazioni societarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e adempimenti agli obbighi di legge per completezza la relazione precisa che il comune ha anche altre partecipazioni a enti che non sono oggetto del presente provvedimento tra i quali l'ente idrico campania e lato salerno sarebbe l'ente d'ambito per il servizio integrato della gestione dei rifiuti la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione in quanto è intenzione di questa amministrazione mantenere tutte le attuali partecipazioni e visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dell'azione tecnica legata alla deliberazione di cui stiamo andando a discutere che ne costituisce parte integrante sostanziale direi di andare al deliberato se consentite per cui si delibera di riportare e approvare i richiami le premesse e l'intera narrativa quale parte integrata e sostanziale del dispositivo di approvare la ricognizione al 31 12 del 2021 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni dirette o indirette come disposto l'articolo 20 del decreto legislativo 75 2016 di trasmettere la deliberazione relativa alla presente proposta a tutte le società partecipate del comune di inoltrare l'esito della ricognizione di cui rappresenta proposte di deliberazione per le comunicazioni previste esensi dell'articolo 20 con materia del TUSP con le modalità di cui l'articolo 17 di 90 2014 e esecuzione del decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e di inviare a cura del responsabile del servizio amministrativo contabile copia della presente documentazione alla competente sezione regionale di controllo della corte dei conti e alla struttura di cui l'articolo 15 del TUSP individuata nell'ambito del MEF attraverso l'apposito applicativo con le modalità e i termini da essere stabiliti di disporre che la deliberazione consigliare relativa alla presente proposta venga pubblicata nell'apposita esizione di amministrazione trasparente del sito istituzionale di rendere con separata votazione che dà il medesimo esito della votazione principale la presente deliberazione immediatamente eseguibile a senza del 134 del TUSP grazie grazie consigliere interventi passiamo direttamente alla votazione io da favore della deliberazione per la immediata esegutività la limità chiuso anche questo ordine del giorno passiamo alla settima settimo punto all'ordine del giorno ratifica della deliberazione di giunta comunale 159 del 1812 2022 recante la variazione d'urgenza al bilancio di previsioni ai sedi dell'articolo 175 4 del decreto legislativo 267 2000 relazione il consigliere Rizzo grazie ancora chiaramente uno dei punti più importanti di questo consesso consigliare insieme al riconoscimento di fuori bilancio riguarda la variazione di bilancio che sostanzia la delibera di giunta numero 159 del 18 novembre 2022 con la quale si è provveduto a portare delle variazioni al bilancio di revisione 2022 per garantire la realizzazione dei progetti legati al PNRR e affettuare alcune modifiche di fronte alle mutate condizioni di entrate spese rispetto all'approvazione del bilancio di previsione stesso entrando un po' più in dettaglio chiaramente dei capitoli si sono effettuati delle modifiche di maggiore entrate per contributi per la funitura di libri di testo allie nazioni boschive si adeguati in aumento l'entrata dell'addizionale comunale dopo aver analizzato i centri di quest'anno di circa 20 mila euro invece per quanto riguarda i grandi progetti che è la sostanza più grande di questa variazione di bilancio sono stati sostanziati in bilancio nei rispettivi capitoli di entrate e di spesa le dotazioni assegnate il grande importo per esempio di Bande Borghi con 2 milioni e 400 mila euro o l'assegnazione dei fondi per il miglioramento dei servizi digitali della pubblica amministrazione per oltre 180 mila euro nei vari progetti che vanno a modernizzare l'apparato dell'ente l'aggiornamento in più del contributo per lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico degli alloggi erpe della zona Borghi per ulteriori 197 mila euro portando l'investimento complessivo 1 milione 197 oltre finanziamenti per progettazione di riqualificazione della zona ex scuola elementare e la rifunzionalizzazione di piazza Mastroilia il campo invece delle uscite registriamo come credo in tutti i comuni di tale un aumento delle uscite a caso dei costi altissimi dell'energia una maggiorazione rispetto alla previsione di 118 mila euro per una spesa complessiva di 218 mila euro in un anno praticamente superiamo il 100% rispetto alle previsioni iniziali inoltre abbiamo assestato i capitoli del personale riguardanti il personale adeguato l'istanziamento alle effettive esigenze prevedendo anche la copertura degli adeguamenti contrattuali della contrattazione in ultima si è effettato una spendica di review sui capitoli sui quali ovviamente si poteva operare mentre gli altri capitoli per cui l'istanziamento erano insufficienti come per esempio quello del discorso energetico di cui parlavo prima sono stati adeguati chiaramente a rialzo per le modifiche sovra di chiamate sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile espresse responsabile del servizio e il parere favorevole del revisore dei conti di cui al verbale numero 31 del 22 dicembre 2022 passo direttamente al deliberato e con questa proposta si delibera di richiamare la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo di ratificare i sensi dell'articolo 175 comma 4 del Tuel la deliberazione di giunta comunale numero 159 su questa già ho segnalato un piccolo errore c'è scritto 150 del 18 novembre 2022 mentre l'oggetto variazione di bilancio per l'ottata d'urgenza i sensi dell'articolo 175 comma 4 del Tuel di dare atto che in seguito dell'avorazione alla variazione di cui la presente deliberazione vengono corrispondentemente modificati il bilancio di previsione e il DUP per il relativo periodo di competenza e viene garantito il mantenimento del relativo equilibrio di bilancio di previsione di rendere con una separata votazione che è data il medesimo esito della votazione principale la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 134 del Tuel grazie grazie consigliere Rizzo interventi prego assessore Mastrovia innanzitutto chiedo scusa purtroppo a casa non si vede mi dicono che non si vede più la direzione speriamo di risolvere ne approfitto per ringraziare il consigliere comunale ci sta dando una mano immensa e devo dire rispetto ad alcune frasi dette prima che ha risolto problemi che prima si trattavano a nascondere e quindi lo ringrazio ancora di più ringrazio a tutti ringrazio Silingato per il lavoro in mano che sta facendo ringrazio la segretaria ringrazio a tutti quanti voi consigliere comunali per il lavoro che state facendo per l'impegno che state mettendo per la serietà per la responsabilità stiamo affrontando problemi immensi e molti di voi sono giovanissimi quindi ringrazio a maggior ragione per tutto l'impegno che state profondendo in questa avventura grazie grazie assessore ci sono altri interventi passiamo alla votazione quindi chi vota a favore unanimità chi vota per la immediata esecutività unanimità passiamo all'ottavo ratifica della deliberazione di giunta numero 170 del 30 11 20 22 legante alla variazione d'urgenza al bilancio di previsione esente dell'articolo 175 4 del decreto legislativo 267 del 2000 relaziona sempre il consigliere inizio dovete sopportare per un'ultima volta all'ordine del giorno numero 8 di questa seduta consigliare in cui andiamo a ratificare la deliberazione di giunta comunale numero 170 del 30 novembre 2022 che interviene nuovamente sul bilancio per apportare una successiva variazione rispetto a quella di cui abbiamo parlato nel punto precedente in questa brevissimamente si è postato in entrata con l'ininazione dell'opoli cimiteriale in costruzione per 240.000 euro al fine di poter avviare l'opera in programmazione e un contributo statale per le spese di energia elettrica di circa 7900 euro compensando queste cifre in uscita anche per le spese previste anche per questa variazione ovviamente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica incontabile rispetto ai responsabili del servizio e il parere favorevole del revisore dei conti di quel verbale numero 29 del 1612 2022 vado velocemente al deliberato la proposta appunto delibera di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante sostanziale del dispositivo di ratificare ai sensi dell'articolo 175 4 del TUEL la deliberazione aggiunta comunale al numero 170 del 30 novembre 2022 avendo l'oggetto per azione di bilancio adottata d'urgenza ai sensi del 175 4 del TUEL di dare atto che in seguito alla valorazione di cui è la presente deliberazione vengono corrispondemente modificati i bilanci di previsione DUP per il relativo periodo di competenza e viene garantito il mantenimento del relativo equilibrio del bilancio di previsione di rendere infine con separata votazione che è data il medesimo esito della votazione principale la presente deliberazione immediatamente esegibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL grazie grazie così direi ci sono interventi io chiedo scusa solo microscopicamente 7000 la variazione in bilancio relativa 7900 euro aiuto per le spese di energia eletta che ha concesso dal governo il comune di Contursi Terna e pare di tanti altri ha dovuto affrontare quest'anno costi per circa 136.000 in più rispetto a quelli dell'anno precedente cioè noi siamo stati massacrati come tanti altri comuni su questo che è l'argomento attuale voglio dire il problema rispetto al quale ci si confronta a livello nazionale questo per dire che davvero in una situazione complicatissima una situazione energetica di questo tipo ci ha messo al cospetto di ulteriori difficoltà e speriamo di superare nell'anno prossimo qualora questo non dovesse accadere in tempi brevi anche perché i risvolti internazionali non suggeriscono questi tempi brevi almeno ad oggi noi ci vedremo costretti e lo abbiamo annunciato questa volta sì da gennaio a dover procedere almeno con l'illuminazione pubblica a un razionamento dell'utilizzo della stessa quindi andremo praticamente ad alternare lampioni spenti e accesi in alcune zone a spegnerli completamente e in ogni caso a consentire che almeno dal punto di vista generale il bilancio dell'ente possa reggere perché un urto di questo tipo per il secondo anno consecutivo ci metterebbe nelle condizioni di non poter resistere grazie passiamo alla votazione vivo dal favore del deliberato unanimità votiamo per l'immediata esecutività unanimità passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno che riguardano le modifiche al regolamento comunale per la concessione di sovvenzione contributi sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di altri vantaggi economici prego relazione il sindaco sì grazie abbiamo chiuso poi insomma possiamo accingerci dopo immagino un saluto di auguri che ognuno di noi immagino voglia assicurare alla cittadinanza finalmente è il momento più gradevole della serata che è quello del riconoscimento a Gianmarco Berletta da parte nostra del nostro apprezzamento del nostro orgoglio della nostra insomma gioia nell'apprendere quali risultati straordinari in grado di conseguire lo fa lui lo fa a nome del comune di Contursi Terme in ogni caso e quindi è per noi un piacere enorme riuscire a formalizzare anche se attraverso una targa momentaneamente quello che è l'apprezzamento di tutta la cittadinanza di Contursi Terme rispetto al punto all'ordine del giorno al momento che ormai ognuno di noi ha approfondito in maniera enorme il tutto sintetizzo dicendo che cosa si tratta di un'integrazione a un regolamento comunale già vigente per la concessione di sovvenzioni con tributi sussidi e ausili finanziari ebbene aggiungiamo al netto di tutto due articoli patrocinio articolo 12 patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Contursi Terme di un particolare valore sociale morale culturale economico sportivo turistico ambientale od economico delle iniziative promosse da enti associazioni organizzazioni pubbliche private che non perseguono scomi di lucro e che per notorietà e struttura sociale vi hanno garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa all'interno di questo articolo 12 praticamente andiamo a semplicemente fissare i paletti rispetto alle modalità di richiesta del patrocinio almeno sette giorni prima della data dell'iniziativa un obbligo da parte del Comune di rispondere con largo anticipo e quindi in ogni caso in termini idonei almeno tre giorni prima della data dell'iniziativa con una risposta o positiva o negativa generalmente non c'è mai risposta negativa da parte del Comune e da questo punto di vista ci interessava sottolineare che cosa che anche nell'ambito delle richieste di patrocinio il Comune ha l'esigenza di comprendere quali sia il programma dettagliato delle iniziative che si propongono quindi da oggi insomma maggiore attenzione a parte di tutte le realtà che intendono avvalersi del patrocinio da parte del Comune di Contorso la stessa chiaramente disponibilità di sempre da parte del Comune stesso e l'articolo 13 altri vantaggi economici discendenti dal patrocinio nel quale sintetizziamolo in maniera estrema per essere velocissimi andiamo semplicemente oltre che a prevedere eventuali concessioni di contributi che però vanno disciplinati attraverso apposito regolamento e sono disciplinati attraverso apposito regolamento e chiaramente apriamo e chiudiamo parentesi il Comune di Contorsi non può prevedere rispetto alla condizione economica in cui giace però ogni volta all'interno di un'iniziativa mancava un appiglio quale quella che è anche la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune per il tempo strettamente necessario dell'iniziativa era una mancanza che giustamente la segretaria ha immediatamente analizzato come da ripianare per non trovarci nella condizione di pronunciarci in maniera inidonea su determinate richieste lo facciamo anche soprattutto perché noi sul terzo settore sulla cooperativa di comunità sulla fondazione abbiamo puntato tutto e quindi nel 2023 sarà anche l'anno all'interno del quale intendiamo dare il meglio su questi argomenti mi propongo quindi di leggervi il deliberato in maniera stringata e quindi di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali di apportare il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni contributi sussidi ed usiti finanziari per l'attribuzione di altri vantaggi economici approvato con deliberazione consigliare numero 21 del 96 2017 le modifiche di integrazione indicate nella premessa del presente atto deliberativo materialmente allegato alla presente deliberazione costituente parte sostanziale chiaramente di rendere con separata votazione il medesimo cioè la presente deliberazione immediatamente eseguibile grazie Presidente grazie secondo ci sono interventi quindi passiamo subito alla votazione quindi chi si esprime a favore del deliberato unanimità per l'immediata esecutività all'unanimità a questo punto come dicevamo un giro di auguri da parte di tutti io inizio con l'augurare ripeto un nuovo anno di detizia di pace ma una pace che non sia vista soltanto come pace nel mondo lontano da noi ma che cominciamo a costruire noi dalla base da noi dalla famiglia dal quartiere dalla città evitando contrapposizioni evitando frazioni evitando di creare quelle condizioni di piccole guerriglie anche stupide a volte ma cercando di lavorare per una comunità e per cercare di essere sempre più vicini eventualmente e possibilmente a chi magari ha o non ha possibilità e ai più poveri un pensiero lo volevo fare soprattutto a quelle persone che stanno nella casa famiglia un pensiero alle signore che stanno nella diciamo nella casa di accoglienza per anziani quindi a tutti costoro che hanno delle difficoltà e hanno diciamo l'impossibilità di vivere invece una una vita molto più tranquilla e molto più felice quindi auguri a tutti e passo quindi la parola ad ognuno di voi iniziamo dal più piccolino quindi da Eugenio prego Eugenio Buonasera a tutti siamo giunti all'ultimo consiglio comunale del 2022 ormai siamo proiettati tutti gli effetti nel 2023 e l'augurio che mi sento di rivolgere alle famiglie contursale che l'anno che verrà possa essere un anno trascorso all'insegna di quei valori essenziali come gli affetti familiari le amicizie disinteressate insomma tutti quei valori che al netto di ogni condizione rappresentano dei veri e propri baluardi incrollabili esattamente un anno fa in questo consiglio si raccomandava si riamava alla prudenza rispetto alla situazione Covid quest'anno ci sono ben altri problemi che testano preoccupazione a mio avviso uno su tutti la situazione della crisi energetica e quindi da parte mia ma credo da parte di tutto il consiglio comunale un augurio affinché ci possa essere una ripresa soprattutto dal punto di vista economico per le famiglie contursale ma di tutto il paese e infine non per demerito un augurio a tutti i colleghi e tutti i componenti di questo consesso grazie per quanto mi riguarda spero di non avervi staccato con la mia voce già precedentemente però rinnovo gli auguri di buon anno a tutta la cittadinanza la speranza più grande chiaramente è che nel 2023 si possa parlare più di pace che di guerra fondamentalmente perché quest'anno è stato un anno molto strano siamo usciti da una situazione complicata a livello nazionale e internazionale dopo la pandemia e ne siamo entrati in un'altra che è ugualmente tragica che chiaramente è la guerra in Ucraina quindi l'ospice più grande è quello di poter vedere la fine di queste disgrazie che attanagliano quelle popolazioni un pensiero va sicuramente a loro e per compu direi un buon anno a tutti un buon 2023 che sia un anno di pace e di maggiore prosperità magari è un buon guastanare grazie buonasera a tutti ringrazio sempre per la numerosa presenza lo so che assistere a dei consigli comunali così lunghi soprattutto con tematiche così pesanti riconosco insomma la vostra forza ho visto tanta voglia di essere coesi di camminare lungo la stessa strada per raggiungere un obiettivo comune e soprattutto l'ho visto in queste persone in questa amministrazione c'è la volontà di essere lungimiranti abbiamo messo tanti punti fermi in numerosi uffici all'esterno in termini di di opere stiamo dando tanto alla comunità e spero che da parte vostra insomma questo si veda e traspare in maniera insomma vivida e quindi l'augurio che faccio è quello di essere sempre sempre coesi di essere una comunità un'unica comunità quindi soprattutto mi permetto di dire di non rivedere episodi come questo di stasera che vedono insomma distaccarsi e come diceva il presidente l'esistere di frazionamenti in una comunità e non è bello insomma vedere questi esempi ringrazio tutti di nuovo e buon anno sincero da tutta l'amministrazione grazie auguri a tutte le donne e gli uomini a chi si adopera per migliorarla a coloro che sono in difficoltà a quelli che vivono in solitudine ai nostri ragazzi che desiderano una prospettiva all'altezza delle loro aspirazioni l'amministrazione comunale ha messo in campo tutta la sua fantasia e creatività per evidenziare la magia durante le festività natalizie e per far tornare ad essere la nostra città punto centrale di entrazione culturale e commerciale dell'intero territorio un paese il nostro ricco di storia e di valori viviamo in un paese che oggi molti ci invidiano per la bellezza dei paesaggi per il folklore e per le antiche tradizioni che tutti noi amiamo profondamente e che l'amministrazione comunale grazie all'impegno di tutti con un lavoro silenzioso ma determinato e costante vuole rendere ancora più bello ed accogliente il tempo che ci avvicina a nuovo anno ci porta a riflettere su quanto abbiamo fatto a ripercorrere idealmente la memoria dell'anno passato e al contempo a provare a condividere con gli altri le speranze di un futuro sereno e benefico e per questo tutti insieme possiamo e dobbiamo individuare i processi per la crescita della nostra comunità un grazie sincero a tutti gli entri sovracomunali che ci sono vicini alla locale stazione dei Carabinieri ai nostri vigili urbani a tutti i dipendenti comunali al paro con la protezione civile e la Croce Rossa e non per ultimo le associazioni di volontariato locale che danno il loro contributo con la realizzazione di eventi della nostra comunità ad ognuno dei componenti di questa magnifica compagina amministrativa il mio augurio per il 2023 è quello di continuare questo mandato con l'entusiasmo del primo anno lo faccio con la viva speranza che la solennità di queste feste possa alimentare in ciascuno di noi l'amore per il nostro paese e la volontà di contribuire tutti assieme per far crescere la nostra comunità per un futuro migliore concludo con ringraziamento speciale al sindaco Briscione che con determinazione e competenze di enusiasmo ogni giorno 24 su 24 affrontata le problematiche della nostra comunità auguro a lui uno anno con tanti obiettivi da raggiungere dopo l'emergenza abbiamo davanti la sfida della ripartenza sarà il tempo delle grandi opere della riqualificazione di aree verdi e del rilancio di alcune aree strategiche tutto quello che riusciremo a fare insieme e la disponibilità e creatività di ognuno rappresentano il dono migliore per il bene di contursi buon anno a tutti grazie Felice io semplicemente auguro a noi di raggiungere tutto ciò che riteniamo sia meritorio tutto ciò a cui ambiamo ringrazio tutti quanti voi che ci state vicino ringrazio anche chi ci critica perché ci fa crescere e ci dà anche la possibilità di migliorare per il nuovo anno naturalmente là dove abbiamo sbagliato dove siamo stati manchevoli cercheremo di porre rimedio a queste nostre piccole e involontarie mancanze e cercheremo di essere sempre più propositivi e comunque di dare risposte a tutti i vostri interrogativi buonasera a tutti io innanzitutto condivido gli auguri di pace di speranza di ripresa economica e sociale a parte dei miei colleghi però prima di concentrare un'interno che verrà vorrei un attimo ripercorrere l'anno che sta per finire e ringraziare innanzitutto i dipendenti comunali che per l'impegno profuso in questo anno dovrà essere chiesto dell'amministrazione e quanti nella nostra contursi hanno compreso la necessità di mettersi a servizio degli altri c'è una delle cose che mi auguro per il 2023 che questi possano fungere da monito da stimolo da esempio affinché sempre più persone diciamo per l'umbre sempre maggiori di persone affinché tutti insieme possiamo fare sempre di più e sempre meglio la nostra bellissima comunità quindi buon anno a tutti non so se posso farlo ora o tra poco però volevo fare il mio personale complimenti a Gianmarco faccio ora o dopo? faccio ci tengo a complimentarmi personalmente con Gianmarco che pur essendo giovanissimo ha già fatto parlare di sé in ambito sportivo raggiungendo dei risultati formidabili risultati che danno lustro e rendono pieno e orgogliosa l'intera sottolineanza io mi auguro che quello di Gianmarco possa essere un esempio per tutti i giovani contursani e non affinché possano acquisire la consapevolezza del fatto che con la tenacia con l'impegno e con il talento nessun risultato può essere precluso ti faccio in bocca al lupo per le prossime competizioni e per tutto quello che verrà grazie se posso presidente chiudo io brevissimamente a me corre l'obbligo davvero l'obbligo sentitissimo di ringraziare la cittadinanza e ringraziarla per gli atteggiamenti costruttivi che ha riservato a questa amministrazione comunale allo sforzo che tentiamo quotidianamente di mettere in campo per cambiare le sorti e forse gigantesco di acqua perché ci vorranno anni di lavoro per poterlo fare ma per riuscire a sostanziare una direzione rispetto alla quale contursi può crescere e può crescere grazie al contributo di tutti quindi sentivo da parte di tutti i componenti della squadra l'augurio di trovarci al cospetto di una vicinanza sempre maggiore delle persone di una consapevolezza lo abbiamo detto sin dal primo istante che ciascun obiettivo può essere raggiungibile solo attraverso uno sforzo corale nove persone sono assolutamente insufficienti a garantire svolte in una comunità nove persone possono avere idee una visione noi da sempre tentiamo di metterla a disposizione anche per modificare determinate convinzioni dei cittadini è chiaro però che vi chiediamo questo ennesimo sforzo che il 2023 assieme agli anni successivi possa essere l'anno in cui con più concentrazione da parte nostra avendo esaurito un po' di lavoro interno perché dico davvero anno ogni tanto basta dedichiamoci al lavoro esterno di ricucitura ancora maggiore con i cittadini consentendoli di mettere a disposizione un po' di energia in più perché contursi ha la possibilità di svoltare rispetto a tanti aspetti che abbiamo messo in obiettivo e stiamo riuscendo a perseguire dopo anni di diciamo aspirazioni in tal senso un aiuto straordinario ci viene dalla regione campagna ci è venuto dalle possibilità offerte dal PNRR ci vengono dagli organi sovracomunali vicini con i quali dialoghiamo quotidianamente che sono attenti alle istanze di contursi ecco allora ci siamo detti da sempre che le potenzialità enormi straordinarie che percepiscono al di fuori di contursi molto spesso non coincidono con quelle che il cittadino contursano riesce a cogliere ancora oggi come invece significative allora lo sforzo congiunto invece di poter ripercorrere queste parabole di sviluppo in una maniera più coesa assieme per consentire che un minimo di svolta possa essere possibile sia in termini di opere pubbliche sulle quali stanno arrivando risultati straordinari ma anche e soprattutto sul sociale la cosa sulla quale noi ci eravamo impegnati in maniera enorme gli interventi primi che abbiamo consentito che fossero possibili sono quelli a bannaggio delle persone che occupano all'OGIERP immediatamente attraverso il sociale stiamo mettendo in campo azioni sostanziali che vedranno anche voglio dire protagoniste le realtà che abbiamo voluto che nascessero nella fondazione di partecipazione cooperativa di comunità ma davvero tutto il terzo settore dialoghiamo quotidianamente con le associazioni speriamo di farlo in maniera sempre più estesa un ringraziamento infinito ai dipendenti comunali del comune noi abbiamo tanti abbiamo tante persone ormai impegnate sui servizi esterni ma abbiamo davvero quasi il nulla occupato nei settori nevralgici settore economico finanziario settore tecnico noi dobbiamo dire un gigantesco grazie altro che le le favole raccontate per l'amor di Dio e apprezzamento a tutti coloro i quali hanno dato e hanno messo a disposizione del comune uno sforzo per consentire il conseguimento dei risultati ma noi ci troviamo a cospetto di due persone davvero straordinarie che abbiamo come responsabili amministrativi lo dico sempre non mi stancherò mai di dirlo assieme a tutti loro noi viviamo un comune intero con 12 ore a settimana offerte dal responsabile amministrativo contabile ragionier Cosimo Marmora che è un dipendente del comune di Eboli 12 ore a settimana un terzo di una sola persona nessuno sotto di lui se non una via 18 ore e l'infinito addosso eppure voglio dire è stato in grado di svoltare di cambiare anche nella ricostruzione della mole debitoria dei contributi non versati ai dipendenti dei pensionamenti dei dipendenti dei tributi e dell'impostazione degli stessi quadrature davvero isperate un grazie gigantesco a lui un grazie gigantesco all'architetto Angelo Turco 12 ore settimanali lui dipendente del comune San Gregorio Magno un terzo di una sola persona nessuno sotto di lui per settore urbanistica edilizia lavori pubblici e c'è una marea di lavori pubblici ambiente manutenzione servizio idrico cioè l'infinito ebbene è chiaro che siamo costretti noi molto spesso a fare i dipendenti comunali più che gli amministratori nel pieno infinito rispetto di quello che deve essere un profilo che ci vede dare indirizzi seguire essere attenti e mai occuparci di aspetti gestionali ma chiaramente questa cosa speriamo di poterla cambiare un minimo non quest'anno non ce la faremo siamo al 33 e 6% di spese di personale nonostante la ridotta capienza e non potremo fare assunzioni neanche per l'anno 2023 un altro anno speriamo di sofferenza atroce poi qualcosa dovrà cambiare se non davvero i comuni meglio che chiudono e che voglio dire da questo punto di vista cambiano un mestiere che poi è quello di essere l'ossatura l'equilibrio voglio dire il fulcro di questo paese e allora c'è bisogno di difenderli di metterci nelle condizioni di poter muoverci speriamo vengano su questo anche nel 2023 riconosciuti a livello governativo ulteriori sforzi a favore di questa necessità da parte dei comuni non è solo contusi sono tantissimi ad essere in ginocchio rispetto a questo aspetto un gigantesco grazie a tutti voi lo dico dal profondo del cuore al di là di un legame davvero enorme che c'è tra di noi e che nelle difficoltà nelle problematiche in questo quotidiano vedersi scambiarsi idee cresce e non viene sminuito c'è un rispetto infinito tra di noi c'è un essere franchi sempre c'è un condividere ogni singolo aspetto ogni singola virgola non esiste la stanza del sindaco forse è un limite al Comune di Contursi ma noi tutti assieme l'abbiamo sempre vista come un elemento di forza esiste la nostra stanza esiste il nostro intrattenerci assieme esiste il nostro far trovare ad ognuno che sale al Comune di Contursi Terme sempre qualcuno presente e in grado di tentare di risolvere la problematica sottoposta all'attenzione con la franchezza di dire no non è possibile nel momento in cui ci viene sottoposta una problematica di natura leggermente diversa da quella attualmente possibile in termini soluzioni a parte del Comune di Contursi internazionale quindi un gigantesco grazie ad ognuno di voi dalla Vice Sindaco ai componenti della Giunta ad ogni consigliere che nelle proprie deleghe mette il cuore e davvero si sforza per dare il meglio anche nel rapporto con i cittadini io sono orgogliosissimo di tutto quanto abbiamo costruito assieme stiamo costruendo assieme e di qual è la caratura morale soprattutto di ciascun componente di questa squadra e una grazie immenso a comandante ringrazio lei comandante lo faccio per ringraziare tutti voi per il sostegno che ci date per l'attenzione per lo sforzo che profondete la protezione civile di Contursi sempre presente ci affianca in ogni esigenza i comitati che lavorano con noi insomma tutte le persone che ci circondano dando un sostegno all'azione dell'amministrazione una speranza avevamo deciso di non dirlo lo diciamo nella trasparenza con la quale abbiamo condotto tutto il percorso assieme il mio augurio è che il 2023 sia un anno splendido per Contursi che cosa ridicola che cosa semplice anche abbastanza vuota no che cosa semplice ma significativa se riusciamo a mettere in campo assieme lo sforzo che ho spiegato all'inizio ma il mio pensiero al di là della guerra necessariamente da cessare dal superamento dei problemi voglio dire economici derivanti dal caro di energia e anche quella di dare la massima attenzione da parte nostra ai tanti cittadini che vediamo iniziano a soffrire di questo stato delle cose in termini sociali e dialogo con noi quotidianamente non siamo in grado di assicurare bacchette magiche o applicazioni di chissà quali soluzioni siamo in grado sempre di farci sentire vicini a prescindere da quale soluzione possa essere quella adeguata a soddisfare il bisogno di una persona e tra queste persone bisognose un saluto un grazie agli ex dipendenti della fabbrica sorgenti in Montebianco un ringraziamento perché sono stati compostissimi nel momento in cui la fabbrica si è chiusa hanno lavorato fino all'ultimo giorno e hanno dialogato con noi dal 26 luglio poi divenuto 31 luglio giorno di chiusura della fabbrica definitiva ad oggi quotidianamente e l'amministrazione comunale ha deciso di fare una cosa incontri col prefetto sempre nella massima trasparenza incontri con l'assessore regionale Marchiello per aprire un'unità di crisi su questa situazione a contorsi terme 18 famiglie chiaramente senza lavoro che per ora le dimensioni di contorsi non sono assolutamente trascurabili sono davvero un disagio enorme anche perché sono voglio dire persone difficilmente ricollocabili al lavoro rispetto all'età che hanno ebbene noi abbiamo seguito un orientamento ce l'avamo posti il problema espresso al prefetto e al viceprefetto sul loro invito di dare il massimo per trovare una soluzione e noi abbiamo inseguito queste soluzioni situazioni proprie rispetto a una peculiarità che riteniamo indispensabile l'imbottigliamento di acque minerali o in ogni caso di bibite contraddistingue il nostro comune quella peculiarità ed è anche l'elemento cardine rispetto al quale l'unica ipotesi rispetto alla quale le energie di quei 18 lavoratori possono essere rimesse in campo da chi acquisisce e acquista il capannone il capannone è andato all'asta aggiudicato da una società la Foran SRL ma la società non trattando acque minerali né bibite davanti al prefetto e davanti all'assessore regionale chiese al comune di Contursi Terme uno sforzo per trovare acquirenti in grado di assicurare nuovamente lavoro ai lavoratori della ex sorgenti Monte Bianco il comune incessantemente ha inseguito due delle realtà più floride della nostra area per l'amor di Dio abbiamo inseguito Ferrarelle abbiamo inseguito San Benedetto ma IBG è Psicola Bugino persone straordinarie interessate ma con grande grandissima onestacia hanno detto prima di due anni e mezzo tre anni noi non riusciremo a mettere in campo un investimento e immediatamente dopo dopo un inseguimento enorme sorgenti Santo Stefano Acqua e Minerali Montesano sulla Marcellana anche loro da questo punto di vista dopo un primo no assoluto perché già avevano investito sono venuti qui ci hanno conosciuto hanno visto il capannone hanno visto le prospettive hanno deciso di dire vogliamo acquistare ebbene da allora una marea di tentativi dritti o storti per evitare che questa ipotesi accadesse noi abbiamo chiesto ad ognuno che chiaramente nell'interlocuzione col comune si riteneva interessato una certezza una di poter dedicare la sua attenzione alla riassunzione dei 18 lavoratori e se aveva a disposizione la possibilità di un investimento idoneo per un rilancio di quella realtà tanti non avevano queste caratteristiche alcuni di essi sono stati ugualmente straordinari incontrandoci e comprendendo qual era stato lo sforzo e qual era l'immediata prospettiva di utilizzo hanno detto io non riesco ad assicurare questo faccio un passo indietro altri ancora oggi per amor di Dio il comune non deve decidere le sorti di un capannone come se fosse di proprietà sua noi auspichiamo una moral suasion possiamo fare ok esercitare che l'interesse di questi imprenditori in grado di cambiare nuovamente il volto e appena dopo 4 mesi di riassumere gli operai e di rimettere quel capannone di nuovo in funzione venga accolta anche da parte di chi ritiene ossessivamente di dover esprimersi nell'acquisto di quel capannone e che invece possa sulla base di una analisi critica fatta a se stesso sono o non sono in grado di assicurare la riassunzione di 18 famiglie sono o non sono in grado di consentire che quella peculiarità cioè un capannone di 19.500 metri quadri debito all'imbottigliamento o di acqua minerali o di bibite possa rinascere se la risposta è sì chiediamo ad ognuno di collaborare ci alzeremo noi il cappello e faremo un plauso infinito a chiunque sarà in grado di assicurare questo se questo dovesse non essere possibile da parte di qualcuno chiediamo la comprensione rispetto a uno sforzo infinito che abbiamo fatto per consentire che si realizzasse un investimento nuovo dalle prospettive più grandi e quindi chiediamo a chi ancora oggi tenta di trovare alternative di poter procedere a un riesame della situazione rispetto a questa possibilità un saluto enorme e un bocca al lupo ai 18 laboratori dell'ex sorgenti Montebianco da parte dell'intera amministrazione comunale noi ogni passo che abbiamo fatto lo abbiamo fatto a Sier pesando ogni singola azione pesando ogni singolo sforzo e aggiornando continuamente prefetto assessore e lavoratori speriamo che il 2023 l'inizio del 2023 possa vedere questo sforzo realizzato sarebbe la più grande opera pubblica che il comune di contursi terme riesce ad assicurarsi sicuramente forse la più grande opera pubblica del nostro quinquennio nonostante saremo in grado a breve di porre l'attenzione su altre opere pubbliche straordinarie veritiere concrete ma questo sarebbe da zero un capolavoro io vi chiedo scusa se mi sono dilungato gli auguri di cuore a tutta la cittadinanza di contursi e a tutti i presenti e a tutti i miei colleghi amministratori un grazie alla segretaria comunale che da sempre quando è qui sta fornendo la sua energia supporto dell'azione amministrativa nella maniera più propria con un approfondimento splendido con una cura dei particolari enormi salendo e scendendo 50 volte dalla sua stanza agli uffici per consentire di ricostruire situazioni lasciate in sospeso o ancora non chiare segretaria siamo orgogliosi della scelta che abbiamo fatto glielo dico con davvero tanta convinzione quindi grazie per quanto ha fatto e direi di tacere in questo momento per lasciare spazio all'ultimo adempimento di questo consiglio comunale di fine anno che la consegna del riconoscimento ci dicevamo a Gianmarco Barletta per gli straordinari risultati sportivi conseguiti diceva a qualcuno e per noi un onore e un piacere sì e un orgoglio lo diciamo davvero di cuore Gianmarco per tutti noi conferirti un piccolo riconoscimento abbiamo già parlato però con Gianmarco e col papà che lo segue in maniera davvero come un'ombra rispetto una volontà e disciplina olimpica quella del tiro a volo e rispetto ai risultati straordinari che Gianmarco riuscirà a conquistare su palcoscenici ci auguriamo sempre più prestigiosi c'è un dato le scuole possono scegliere come disciplina sportiva quello del tiro a volo la federazione vicinissima a Gianmarco ci consentirà magari di dare un saluto e anche un sostegno all'attività di Gianmarco consentendo che magari venga ancora più diffusa questa disciplina grazie Gianmarco alla tua presenza e a quanto riusciremo ad organizzare assieme sarebbe bellissimo se per l'estate prossima voglio dire riusciamo a ricavare almeno due momenti assieme a Gianmarco alla famiglia agli studenti del Corbino alla cittadinanza in cui oltre a dar valore ai risultati straordinari di Gianmarco iniziamo a consentire che anche la percezione di questo sport di Bayunga dal momento che noi ci auguriamo a Gianmarco che a brevissimo festeggiamo davvero cose straordinarie divenga voglio dire più ecco familiare da parte di tutti i contursani allora come prima gradirei che ci alzassimo insomma ci vediamo al centro sì a questo punto la vice sindaco ci raggiunge e ci vediamo chiaramente al centro dei banchi per la consegna di questo riconoscimento un saluto Gianmarco lo dobbiamo anche alla tua azione comandante dei vigili contursi terme che da questo punto di vista ci ossessiona con i grandi meriti del nipote dicendo che sono anche merito suo poi ci dirai se è vero o non è vero allora inviterei qui a raggiungerci anche il dottor Mellone eccolo qui grazie della presenza chiaramente di essere tra noi per la consegna di questo riconoscimento la saluto a nome dell'intera amministrazione comunale e quindi ci diamo ci diamo da fare quindi a Gianmarco Barletta che nei campionati del mondo junior di tiro al volo ad Osiek in Croazia si è reso protagonista assoluto della spedizione azzurra conquistando due ori e un argento con orgoglio e ammirazione dall'intera cittadinanza con Tursana l'augurio di tanti nuovi splendidi successi il consiglio comunale con Tursi per 29 12 più e 22 è splendido vedere il medagliere che già caratterizza l'attività di Gianmarco papà vieni anche tu dai mamma mamma grazie se c'è qualche interiore intervento in parte nostra poi chiaramente lascerei a Gianmarco è sufficiente io lo ringraziamo tutti e più avanti più avanti il nuovo intervento bellissimo Gianmarco ti lascio il microfono per un piccolo suo pensiero allora ringrazio tutta l'amministrazione comunale per il pensiero e spero di di poter diciamo portare nei giovani questo questo diciamo discorso di sacrificio di impegno e di di dedizione a qualcosa perché appunto se si vuole conquistare diciamo si vuole raggiungere un obiettivo fanno anche fatti molti sacrifici non non solo a livello economico diciamo ma anche a livello proprio delizio si magari uscire meno la sera fare andare a dormire presto ecco quindi diciamo è questo e con Antonio abbiamo parlato e spero di poter diciamo portare questo sport nelle scuole che sembra diciamo uno sport magari il genitore lo vede e dice ah il tiravolo ma c'è un'arma però in realtà non è così perché diciamo che aiuta molto anche a livello scolastico perché è uno sport che ti mette diciamo in una condizione in cui l'attenzione la memoria diciamo tutto quello che concerne anche quello che si fa nella scuola ecco poi che uno se lo ritrova anche in questo sport quindi secondo me è una bella è una bella cosa grazie ricordo Gianmarco dottore vuole aggiungere lì qualcosa gentilmente magari in maniera più propria e opportuna buonasera voglio fare i complimenti a Gianmarco perché io sono il presidente del settore giovanile Campania Gianmarco il nostro punto di riferimento insieme a altri ragazzi si è distinto quest'anno in questa gara che è stata poi l'unica occasione che lui ha avuto per dimostrare il suo valore l'unica ed è stato proprio al campionato del mondo dove lui ha vinto due ori e un argento quindi non posso fare altro che fare i complimenti è il nostro orgoglio della campagna in questo caso anche di questa bella comunità e quindi niente bravo e basta ok parole importanti perché immediatamente voglio dire proiettano il tutto sulla dimensione giusta cioè Gianmarco cittadino di Contursi Termi onore per noi orgoglio per noi ma come diceva giustamente il presidente orgoglio dell'intera campagna rispetto ai risultati straordinari che sta raggiungendo forse c'è qualche altra cosa che papà papà possiamo vuole papà aggiungere qualcosa perché chiaramente il medagliere non è solo quello che ti ha ridato voglio dire è ultimo ma c'è qualcosa in più ti lascio tu sei l'ombra di Gianmarco quindi è giusto che anche tu spieghi un attimino il tutto oltre agli ori e l'argento dei mondiali ci sono anche i due ori del CUSI ad avere il criterium universitario italiano quindi ritornando al discorso per le scuole e quindi per l'università è stato campione italiano con i due ori e ancora un ultimo riconoscimento è stato fatto a Balconi dove ha ottenuto quindi lo dico anche per i giovani ha ottenuto la borsa di studio e un attimo prendiamo anche l'altro l'altro di conoscimento prego prego io ho avuto modo di vedere la borsa di studio voglio io informato video a cellulare ma è significativa è un altro straordinario risultato ma lasciaci stare papà perché so che è l'orgoglio di entrambi ma voglio dire lui in termini di passione per questo aspetto è davvero benissimo è questa è questa è questa che mi ha fatto vedere la borsa e allora nuovamente complimenti a te complimenti all'intera tua famiglia numerosissima e presente stasera è un piacere per noi un onore lo dico davvero da sindaco e da rappresentante dell'intera amministrazione comunale in bocca al lupo regalaci altri altri successi grazie c'è un banchetto preparato dai genitori da Gianmarco e dalla sua famiglia e quindi ci accomodiamo per poter brindare un nuovo anno assieme grazie noi ritorniamo tre secondi nei banchi per chiudere deve solo leggere il rito finale e possiamo chiudere grazie 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 grazie